La trasversale, il finanziamento europeo diciamo che è un primo passo, la partenza per un percorso comunque più ampio, un percorso che voi avete intenzione di espletare nel più breve tempo possibile? Sì esatto, questo è il primo cofinanziamento, 2 milioni di euro per la progettazione preliminare, siamo in fase di sottoscrizione del successivo protocollo con ANAS per la realizzazione del progetto definitivo, che poi potrà essere messo in gara per la realizzazione dell'opera. Io, come ho detto in conferenza stampa, ci tengo a ringraziare perché questo primo passaggio è fondamentale, ci tengo a ringraziare il presidente Nicola Zingaretti e il suo staff, nelle persone con il professor Claude, il Chaubert e il dottor Cristiano Zagari, risorse straordinarie che hanno consentito ai nostri uffici, in particolare al dottor Lupi e al dottor Matteuzzi, che per l'autorità portuale seguono le vicende in Commissione Trasporti in Europa, di raggiungere questo importante primo risultato. È chiaro che a questo seguiranno ulteriori passi, ancora non abbiamo realizzato l'infrastruttura e quindi saremo contenti e felici semplicemente quando vedremo il cantiere aperto della superstrada, che per il porto di Civitavecchia, ripeto, così come è stato compreso a Bruxelles e così come ormai è compreso anche a livello nazionale, per il nostro porto risulta essere determinante, per il futuro sviluppo, anche in previsione del costruendo terminal container. Si va alla progettazione definitiva cercando ovviamente di abbattere i costi che erano previsti in precedenza? Sì, si va alla progettazione definitiva con la convinzione in conferenza di servizi con tutte le istituzioni, i comuni, il ministero dei beni culturali, di tutti gli enti preposti alla conferenza dei servizi, di realizzare un tracciato che abbia una caratteristica fondamentale, che è quella di rispettare la proporzione tra il costo dell'opera e i ricavi che ne derivano. Quindi è chiaro che oggi esiste un progetto da circa 800 milioni di euro che è irrealizzabile e quindi noi su quello dobbiamo lavorare per cercare di trovare un tracciato alternativo nel rispetto dell'ambiente, di quelle che sono le prerogative del ministero dei beni culturali, ma che ci consenta di farlo almeno con un terzo del valore che ho appena citato. Su questo c'è piena sinergia, piena sinergia di intervento, piena sinergia di comunicazionale. Non dimentico, ultimamente ho letto spessissimo il sindaco di Civitavecchia e il sindaco di Tarquinia che hanno a più riprese dimostrato di volere a tutti i costi la realizzazione di quest'opera, che è importante per i territori così come è importante per il nostro porto. Il porto è dentro la città, è in mezzo a due comuni importanti come Civitavecchia e Tarquinia e quindi è una risorsa non soltanto per le infrastrutture portuali, ma è una risorsa per tutto il territorio e anche per i comuni che si affacciano sul porto.